ViewSonic ha presentato al Computex il nuovo ViewPad 4, uno smartphone con processore Qualcomm da 1 GHz, connettività 3G HSD Piafone a 14.4 Mbps, il smartphone è dotato di 512 MB di RAM e nella memoria integrata di 2 GB, espandibile ovviamente con microSD, lo schermo è da 4,1 pollici con una soluzione di 800 x 480 pixel, quindi una dimensione abbastanza generosa. La novità però è il sistema operativo Android 2.2, aggiornabile a Gingerbread, quindi Android 2.3, con interfaccia personalizzata ViewSonic, che stiamo vedendo in questo momento. L'interfaccia è completamente tridimensionale, molto fluida, grazie anche all'ottimizzazione con il processore di Qualcomm e come vediamo ha delle animazioni estremamente gradevoli e che non sembrano appesantire l'uso del telefono nonostante la complessità grafica dell'interfaccia. Il telefono dovrebbe arrivare in autunno in Europa a un prezzo di circa 499 dollari.